La campagna elettorale per le europee, le sue battute finali, è stata abbastanza deludente, vuota, comunque andrò a votare e penso che sia giusto e bene andare a votare, naturalmente ciascuno per quello che crede. La cosa singolare è che in chiusura di campagna elettorale si accusano a vicenda alcuni esponenti della maggioranza, dell'opposizione, di stai facendo campagna elettorale, che cosa volete che faccia? Ho visto la visita per esempio della Presidente del Consiglio in Albania, che certamente era un pezzo di campagna elettorale perché non è successo niente, doveva aprire a maggio, apri ad agosto, il centro per i migranti, un esponente dell'opposizione è andato lì a protestare, che cosa volevi che te fosse? E' la campagna elettorale. Il guaio è il vuoto, per esempio sul centro in Albania il tema è qual è la differenza tra il centro, farlo in Albania o farlo in un qualsiasi altro punto dell'Italia. La spesa è italiana, la sicurezza è italiana, la giurisdizione è italiana. Qual è la differenza? Quindi dal trattamento alle conseguenze è tutto uguale. Forse pensano che domani si potrà sostenere che quella gente che è stata portata in Albania non è mai entrata in Italia, secondo me perderanno un giudizio se oseranno sostenere una tesi di questo tipo. Avrebbe avuto un senso positivo fare un centro fuori dal territorio nazionale, ma a patto che fosse un centro extraterritoriale e che se no non cambia niente. Questo per dire che le cose andrebbero portate alla sostanza. Oggi davanti ai cittadini europei tutti ci sono quattro sfide fondamentali che sono la difesa europea, il trattamento del debito europeo, la transizione tecnologica e la transizione energetica. Questi sono quattro punti ineludibili sui quali la campagna elettorale era come se non esistessero. Prendiamo un esempio veloce. La difesa europea. Avere una difesa integrata europea significa spendere complessivamente meno avendo, non meno di oggi, ma meno di quanto sarebbe necessario, avendo un risultato migliore perché hai messo in scala. Già oggi, in questo momento, i paesi dell'Unione europea spendono in difesa più di quanto spenda la Russia, ma non hanno la stessa potenza. Perché? Ma perché sono 27 spese frazionate. Se tu unisci questo, ottieni maggiore forza. Ma se unisci questo e ottieni maggiore forza, quindi maggiore sicurezza per i cittadini europei, unisci anche le politiche estere, perché non si è mai visto che uno ha una politica estera da una parte e la politica di difesa da quell'altra. Quindi se sei favorevole a questo, sei favorevole a più integrazione europea. Lo vuoi porre questo problema a quelli che fanno campagna elettorale e chiedono il mio voto? Si può essere con te? Dicino, ma io sono contrario alla maggiore integrazione europea. Per carità è legittimo. Quindi sei favorevole a un'Europa divisa e fare un favore a Putin. Anche questo è legittimo, ma glielo diciamo all'elettore. La gestione dei debiti. Da una parte c'è la possibilità, già fatto del debito comune europeo per finanziare Next Generation EU, l'Italia è il principale beneficiario. Alcuni sostengono bene, questo è stato un ottimo esempio, andiamo avanti così, altri dicono no, è stata una bella cosa, ma la finiamo lì, perché non vogliamo fare ulteriore debito comune. L'Italia, essendo il paese più indebitato in maniera, in senso assoluto, in percentuale sul prodotto interno lordo, ma prestissimo saremo anche i più indebitati in assoluto da tutti i punti di vista, l'Italia avrebbe interesse a rendere federale il debito o comunque ad utilizzare soldi presi a prestito federale perché si paga un tasso di interesse più basso che in Italia. Ma se lo fai, a parte che devi convincere gli altri, se lo fai, crei maggiore integrazione, maggiore vinco europeo. Sei favorevole o sei contrario? Se sei favorevole allora potrai dire ai tuoi elettori, penso che si possano avere più denari da spendere come ne abbiamo infatti più di tutti gli altri per il PNRR. Oppure se sei contrario dicendo io, pur di dare addosso all'integrazione europea, penso che voi italiani dovete pagare di più i soldi che prendete a prestito, così ne prendete di meno e forse spendete di meno per la spesa pubblica. È una tesi, sono due posizioni, ma sono due posizioni politiche. Se può andare avanti con vota destra per rendere più forte la posizione alla sinistra, vota sinistra così fermeremo quelli della destra, perché viene voglia così di non fare quello che invece io ritengo ancora oggi essere un diritto e quindi secondariamente anche un dovere dei cittadini, cioè andare a votare.